Musica Ciao a tutti e benvenuti a Giallobook, le video recensioni su libri gialli. Oggi ci vediamo nel 55esimo unboxing, nonché il contenuto di questa busta. Che contiene... Tadam! Lui è un fantasy, voi direte, cosa c'è in Dragon in Gialli? Niente, ma siccome mi piacciono i fantasy e me l'ha consigliato una mia amica, allora ho seguito il consiglio dell'amica. Ed eccolo qua. Di questo arriverà recensione quanto prima. Detto questo, fatemi pensare cosa ne pensate, se l'avete letto, se vi ispira, se lo comprereste. Perdon, fatemi sapere. Vi ricordo che se vi piace il video che faccio, considerate l'idea di iscrivervi al canale e di fare la campanella se vi va. Che se avete dubbi o domande di qualsiasi tipo potete scriverle sotto nei commenti, io risponderò appena possibile. Di iscrivervi al canale di cui trovate il link in descrizione. Di condividere questo e o altri video nel mio canale con i vostri amici e invitarli a fare altrettanto. Di controllare intanto intanto la sezione community del mio canale e di farmi sapere nei commenti se quali nuovi format volete che io porti sul canale. Detto questo, vi ricordo ancora che questa sera alle 21.20 sarò in live qui su YouTube. Detto questo, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!